buongiorno volevo farvi notare come incide la volatilità implicita sul prezzo di un'opzione e come questo valore ne faccia parte integrale ed è un valore piuttosto grosso in termini di denaro quindi piuttosto grande in termini di denaro per cui è importante che lo conosciamo che riusciamo a valutarlo e riusciamo a valutarne anche tutti gli aspetti che poi ci susseguono per poter fare delle analisi previsionali allora ogni opzione che viene quotata dal market maker il market maker è colui che si espone espone i prezzi al mercato sostanzialmente quindi non sa neanche la direzione che verrà colpito perché uno potrebbe comprare l'opzione che lui sta esponendo oppure potrebbe venderla quindi non ha una possibilità diretta di poter assumere una direzione di di mercato quindi lui verrà messo o long o short a secondo di come verrà colpito sul book di negoziazione d'accordo che cosa succede allora che per evitare di poter naturalmente prendere delle posizioni senza avere le riserve in denaro sufficienti ecco che allora lui aumenterà il prezzo dell'opzione e aumenterà lo spread ma di questo poi ne parleremo dello spread intanto lui aumenterà il prezzo dell'opzione quindi vediamo che cosa cosa come incide nel prezzo dell'opzione la volatilità allora questo è un calcolatore di opzioni questo che vedete qua quindi lo trovate anche sul sito beta se poi volete fare che il nostro software gratuito che potete scaricare dal nostro sito se volete fare delle prove qui trovate il calcolatore delle 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 opzioni che quindi scinde le varie componenti del premio perché quello che noi interessa è il premio però il premio è composto da diverse altre da diversi altri valori che sono il delta il gamma il vega il tetra rho e poi le loro derivate però tutto viene calcolato in base al fatto che sia beh alla serie quindi se una colla su una put se americana oppure di stile americano di stile europeo lo strike la scadenza il prezzo del sottostante il risk free rate cioè l'interesse privo di rischio che c'è attualmente sul mercato sostanzialmente indigitate su google euribor sei mesi voi ci mettete quel valore lì e così siete a posto e la volatilità implicita quindi vedete che la volatilità implicita è una componente che partecipa deve essere inserita per poter calcolare il prezzo che troviamo mercato quindi supponiamo che nell'interno che noi vediamo il premio del mercato che è 0 22 68 quindi preso così ci dice che costa 0 22 68 ma non ci fa fare un'analisi noi diciamo 0 22 68 potrebbe essere caro meno caro cioè noi non sappiamo esattamente perché quel numero lì è un numero puro pulito allora se noi facciamo il reverse engineering con un calcolatore poi molto semplice qui li trovate già bene fatti facciamo il reverse engineering di questo noi quindi arriviamo a 22 68 troviamo che la volatilità implicita è 50 per esempio se avessimo trovato un prezzo di 0,5 avremmo iniziato a muovere la volatilità e saremo arrivati che ne so a 160 esatto e quindi troviamo che è 0,5 quindi 0,5 corrisponde una volatilità di 160 invece 0 22 68 che è il prezzo che c'è adesso mercato corrisponde alla volatilità implicita dei 50 quindi vedete se non ci fosse volatilità implicita il prezzo sarebbe di 0,16 quindi quel valore che viene messo nell'interno della volatilità nell'interno del calcolo dell'opzione incide fortemente nel premio dell'opzione stessa quindi è determinante conoscerlo allora questo valore qui questo numero qua viene sostanzialmente posizionato vedete questi disegni però io li ho messi tutti quattro uguali quindi se ne vedete uno solo è la stessa cosa provo a fare così in modo che vediamo se riusciamo a fare meno confusione magari nel disegno eccolo qui così è meglio ritengo sì perfetto allora in questa parte noi troviamo gli strike vedete questa parte ci sono gli strike e quindi su questo asse e su questo asse invece troviamo la volatilità quindi noi si parlava del dello strike 3.1 quindi questo 3.1 abbiamo visto col calcolatore che è 50 il valore circa 50 il valore del del premio che dobbiamo mettere quindi noi lo facciamo esattamente quindi è una col e ci vedete è 58,6 le col hanno questo colore quindi è questa la col e le punte invece hanno questo colore allora la col è 58,6 naturalmente in tempo reale quello che vedete muoversi qua è il valore del sottostante che si muove a destra e a sinistra ecco qui allora io metto 58 esattamente lo stesso valore 58,7 ok e quindi ho questo premio 58,7 poi vado a vedere sullo strike sempre della col magari lo strike 3 e trovo che è 61 poi vado verso ATM ATM vuol dire che sono vicino al prezzo e trovo che è 51 poi vado qua vedete 48 poi vado qua ed è 51 ancora 51,6 sostanzialmente cosa si fa si posizionano dei marcatori all'altezza di questo valore di questo valore che si mette qua di questo valore che viene ricavato poi vi faccio vedere direttamente dall'opzione ci fa il lavoro contrario visto che il prezzo è questo e che i giorni a scadenza sono questi il sottostante è questo quindi è chiaro che la volatilità deve essere questa quindi posiziono il marcatore del valore e poi lo viene congiunto con una linea concentrati solo sul giallo magari adesso vi concentrate sul giallo e vedete che viene e lui ha una sua forma questa forma che quando assomiglia leggermente ad un sorriso quindi si chiama smile smile vuol dire sorriso in inglese ed è una curva che si ottiene questo questa figura che si ottiene sui mercati azionari sui mercati valutari in genere non è uno smile ma è inclinato verso il basso così e quindi non si chiama più smile ma si chiama schifo sostanzialmente per smile vengono indicate tutti i valori delle degli strike della volatilità sugli strike che è collegata con questa con questa linea poi vediamo che sulle put abbiamo altri valori altri valori li congiungiamo e così abbiamo le due curve quella della call e quella della put che è apposto ho messo pochi strike perché se non avviene ci si confonde un attimino e cosa si può notare subito e si nota per esempio come prima valutazione che la opzione le 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 opzioni delle call le call hanno quantomeno da questa parte hanno una volatilità più alta perché il valore è più alto visto che il disegno è più in alto rispetto alle put quindi vuol dire che il market maker in questo momento sta apprezzando perché prezzare vuol dire mettere quel valore sta mettendo quel valore più alto sulle colle rispetto alle put quindi siccome il rischio in un'opzione è quella di andare itm cioè di essere toccata tacit allora è chiaro che lui sta apprezzando in questo momento più il rischio della call mentre qui è identico circa quello che lui sta apprezzando sul 3 3 non c'è problema lui invece lì il pre premia prezzo diversamente da questa parte ecco quindi questo è poi per tutte le considerazioni del caso le faremo poi sul filmato successivo intanto è per introdurre quello che è lo smile come viene composto lo smile quindi lo smile è i prezzi che ci sono sulle opzioni sulla stessa scadenza vengono posizionati verso ingegneri vengono estratti vengono posizionati su questo diagram poi vengono collegati assieme ed ecco che si hanno le curve le curve di volatilità se noi dovessimo dovessimo scegliere più scadenze vedete qui abbiamo il chat se noi potessimo scegliere più scadenze si allungherebbe eccolo qua si allungherebbe lo lo smile che abbiamo fatto e quindi magari abbiamo una visione più globale più generale di quello che è di come è prezzata appunto vedete come per qui le put vanno vanno sono prezzate più in alto mentre qua erano prezzate più in alto le call e quello che possiamo vedere appunto sono sia i giorni a scadenza ma cioè voglio dire gli strike ma anche giorni a scadenza quindi su circa 170 giorni come sono prezzate sono prezzate in questo modo quindi ogni scadenza ha il suo smile quindi questi sono la fila degli strike la serie di strike call e put e poi i giorni a scadenza che ci vogliono l'insieme poi di questi smile messi insieme faranno poi la superficie di volatilità però di cui però parliamo nell'altro filmato volevo farvi vedere una cosa se io vado nella cena delle opzioni che è questa quindi vuol dire la catena delle opzioni quindi o gli strike la scadenza 15 giorni vedete che l'highlight cioè questo bagliore verde e giallo e rosso che si dire che c'è la colonna che è quella della volatilità per esempio questa delle call e vedo che appunto ci sono questi valori 65 62 58 55 53 51 49 47 40 sono in scendere qui si capisce che c'è anche qui una curva che sarà lo smile qui diventa difficile visualizzarlo così perché sono solo numeri ed è esattamente quello che noi abbiamo visto invece in questa parte i numeri sono discendenti dal sinistra verso destra e noi lo vediamo qua vediamo la stessa cosa adesso con meno ecco qui lo vediamo su questo qui diminuiamo un po gli strike se no ecco 8 strike e vediamo che valori che abbiamo letto l'alle li troviamo li ritroviamo quali rappresentiamo quindi sostanzialmente quello che vedete qui è la visualizzazione di quello che c'è al mercato in tempo reale quindi ci sono per esempio sulla maturità scadenza di 79 giorni ci sarebbero da fare delle grosse delle 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 considerazioni profonde intanto capiamo che cosa cosa vogliono come si disegnano e che cosa rappresentano questi questi agami quindi lo ripeto sulle sull'accende le opzioni tra le varie caratteristiche delle opzioni c'è la volatilità volatilità avete visto che è quella che incide sul prezzo quindi variare questo numero vuol dire variare il premio quindi se io ritengo che 0 24 77 io market maker sia a rischio posso aumentare di poco la volatilità e lo alzo vedete quindi chi guarda solo il premio non si è accorto che nella realtà è aumentata la volatilità quindi ecco cosa vuol dire fare un'analisi di volatilità io devo sapere a che livello è questa volatilità per capire se il prezzo è alto che il prezzo sarà sempre un prezzo mentre la volatilità io capisco se è alta o bassa perché farò dei riferimenti con gli indici e poi con altre cose che vedremo poi più avanti bene alla prossima